Prove di legalità, studenti del nord e sud a confronto. Questo il titolo del seminario organizzato dal CESEDI, della città metropolitana di Torino, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che si è tenuto a Palazzo Cisterna venerdì 29 settembre. Lo spunto arriva dal libro di Maddalena Colombo, Adolescenti italiani e cultura della legalità, che presenta i risultati di una ricerca effettuata tra il 2012 e il 2013 tra gli adolescenti italiani. Uno studio di interesse nazionale che ha coinvolto diverse università e che si è posto l'obiettivo di indagare le rappresentazioni sociali della legalità, espresse da studenti delle scuole secondarie di secondo grado o dei centri di formazione professionale. I lavori sono stati introdotti da Maria Grazia Sant'Agati, dell'Università Cattolica, a cui è seguita la relazione di Maddalena Colombo, anch'essa docente della Cattolica. Hanno portato la loro testimonianza sul tema un docente del liceo Einstein e un altro dell'agenzia formativa Immaginazione e Lavoro, entrambi partecipanti alla ricerca. La formazione dei giovani sul tema della legalità, secondo me, è decisamente fondamentale per i nostri giovani. Purtroppo spesso nelle scuole questo tema viene dimenticato. Immaginiamo che nelle scuole superiori solo alcuni indirizzi hanno un'ora di diritto curriculare e quindi spesso viene lasciato questo tema o a ambiti trasversali oppure a una formazione successiva. Qui interviene anche la città metropolitana attraverso il lavoro con il CESEDI, l'Associazione sul Territorio Libera, perché vogliamo tentare di dare un contributo importante alla formazione dei nostri giovani. Abbiamo svolto una ricerca per conto dell'Università Cattolica a centro per lo studio dell'educazione e la legalità della sede di Brescia per domandarci fino a che punto gli adolescenti hanno un rapporto con la legalità che sia simile in diverse zone d'Italia e che soprattutto rifletta non solo l'esperienza della legge direttamente, quindi anche con le forze dell'ordine o con tutto quello che è l'apparato giuridico-legislativo, ma anche la legalità quotidiana, quindi i loro comportamenti, le percezioni, i valori, i modelli e naturalmente poi la loro fiducia nel sistema sociale. Queste sono state le domande, sono state poste con un questionario uguale per tutti negli anni tra il 2012 e il 2013, in momenti diversi, in cinque città. È emerso che la differenza territoriale praticamente non è risultata significativa, è risultato più significativa la differenza di genere, per cui una maggiore competenza di legalità e una maggiore nozione di che cos'è trasgressione e che cos'è invece rispetto della legge nelle ragazze e decisamente meno nei ragazzi. Un altro aspetto molto importante è che abbiamo suddiviso il nostro campione di 3.000 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, lo abbiamo suddiviso in sei gruppi, sei cluster, proprio lungo l'asse, diciamo trasgressione e invece rispetto e conservazione del principio di legalità. Sono emersi che più del 50% appartengono ai tre gruppi dell'asse positivo, quindi una legalità rispettata, in alcuni casi eteronoma, cioè controllata dall'esterno, dai genitori o dagli insegnanti, nell'altro caso invece autonoma. Ma tre gruppi pari quasi al 40% sono invece sull'asse della trasgressione, dello sganciamento dalle norme. Quindi quello che vogliamo presentare oggi sono i dati analitici rispetto a queste risposte e anche qualche raccomandazione per come lavorare su questo 40%.